Salve a tutti, sono Claudio Bartolini, fisioterapista osteopata e in questo nuovo video, sempre sulla tematica della rottura acuta del tendine d'Achille sono un po' monotematico, mi scuso, ma essendome l'ho rotto anch'io di recente conosco bene il tema e questa volta voglio fare un approfondimento sulla primissima fase di rieducazione post-rottura come primissima fase intendo quella di immobilizzazione quindi proprio consecutiva alla rottura come forse sapete in questa prima fase esistono diversi protocolli possibili ogni chirurgo o se non sei stato operato quindi semplicemente l'ortopedico che ti ha seguito proponendoti il trattamento conservativo magari sai che ci sono tanti tipi di protocolli diversi alcuni prevedono immobilizzazioni lunghe anche fino a otto settimane alcune invece immobilizzazioni molto più corte e poi c'è l'altra variante che è importante da appunto approfondire quella riguardo il carico se possiamo caricare da subito sull'arto lesionato o c'è da aspettare diverse settimane per capire meglio il tutto vi voglio riassumere brevemente le tre fasi principali del processo di guarigione la prima fase è sempre quella infiammatoria c'è una reazione di difesa dell'organismo che porta alla formazione del coagulo vengono attirati i globuli bianchi nella zona della ferita per ripulire e vengono poste le basi per la fase successiva quindi quella di ricostruzione di solito questa fase dura dai 3 ai 7 giorni in un soggetto giovane e sano però può arrivare a durare fino a due settimane nella seconda fase, quella riparativa fibroblasti e tenociti iniziano la sintesi del collagene di tipo 3 purtroppo questo tipo di collagene si organizza all'inizio in maniera piuttosto caotica quindi non ha una tenuta meccanica ma diciamo una funzione piuttosto riempitiva infatti in questa seconda fase che può andare dalla prima a seconda settimana fino al secondo mese bisogna stare attenti a fare movimenti o sforzi eccessivi perché lo stato attuale del tendine non lo consentirebbe la terza ed ultima fase inizia circa un mese dopo la rottura in questa fase chiamata di maturazione viene piano piano degradato sostituito il collagene di tipo 3 a favore di una nuova sintesi di collagene di tipo 1 quest'ultimo è logicamente assai più resistente agli stress meccanici rispetto al precedente tipo di collagene e sarà importante attraverso i giusti esercizi da eseguire durante la fase di educazione di garantire che questo tipo di collagene 1 che sarà quello definitivo che costituisce il 95% della struttura del tendine abbia le sue fibre parallele a quelle della linea di stress del tendine stesso questa fase di maturazione è chiaramente progressiva e ha una durata variabile ma assai lunga che può andare oltre un anno dopo questa breve introduzione basandosi sugli studi clinici finora pubblicati vediamo di dare una risposta a queste due domande ovvero qual è il giusto compromesso sulla durata dell'immobilizzazione e dopo quante settimane posso iniziare a caricare del peso sulla gamba lesionata? iniziamo osservando queste due meta-analisi le quali comparano il trattamento conservativo trattamento chirurgico in caso di carico precoce considerato nelle prime 4 settimane o carico tardivo quindi oltre le 4 settimane osserviamo dai risultati e ne ho già parlato abbondantemente nel mio video precedente che la percentuale di rirottura è leggermente più alta nel trattamento conservativo rispetto a quello chirurgico quest'ultima però non varia di molto se la confrontiamo per ogni singolo trattamento tra i gruppi di carico precoce o no ad esempio nel caso del trattamento chirurgico il carico precoce addirittura diminuisce del 2% il rischio di rirottura per quanto riguarda il trattamento conservativo invece questo rischio aumenta del 2% se il carico è precoce per quanto riguarda invece altri parametri quali il tempo di ritorno al lavoro il tempo di ritorno allo sport e la forza non si registrano differenze tra i due gruppi carico precoce o tardivo si registra invece un vantaggio importante a favore del carico precoce per quanto riguarda la qualità della vita del paziente e il ROM che è il range articolare l'escursione in movimento maggiore in flessione dorsale sempre per il gruppo del carico precoce ora passiamo a un nuovo interessante studio che pone l'attenzione sul periodo di immobilizzazione in questo studio clinico recente del marzo 2021 sono stati presi in considerazione solo pazienti che hanno subito il trattamento chirurgico un totale di 266 pazienti con età media di 35 anni sono divisi in 4 gruppi un gruppo A che non ha avuto nessuna immobilizzazione post chirurgica un gruppo B che ha avuto 2 settimane di immobilizzazione un gruppo C con 4 settimane e infine un gruppo D con 6 settimane di immobilizzazione è bene specificare che tutti i partecipanti a questo studio hanno ricevuto lo stesso tipo di intervento chirurgico e seguito lo stesso protocollo di rieducazione che è semplicemente decalato di 2 settimane per ogni gruppo i parametri presi in considerazione in questo studio sono il tempo nel ritorno allo sport leggero il ROM che è il range of movement l'escursione in movimento la distanza dal suolo mettendosi in punta di piedi solo sull'arto lesionato e l'ultimo parametro la TRS che è un questionario riempito dal paziente in maniera soggettiva che riassume la sua soddisfazione globale osservando quest'ultimo parametro il gruppo B con immobilizzazione di solo 2 settimane è quello che riporta il punteggio migliore seguito poi dal gruppo A quello che non ha subito immobilizzazione post chirurgica quest'ultimo però mostra una scala del dolore VAS più alta rispetto agli altri gruppi come anche logico che sia non avendo appunto avuto nessuna immobilizzazione post chirurgica più quanto riguarda gli altri 3 parametri è comunque sempre il gruppo B con immobilizzazione di solo 2 settimane a riportare i punteggi migliori seguito ancora dal gruppo A ed è invece il gruppo D quello con l'immobilizzazione più lunga di 6 settimane a registrare risultati peggiori per quanto riguarda la rirottura del tendine sono stati registrati due casi nel gruppo A e solo un caso negli altri 3 gruppi vi ricordo che appunto su 266 pazienti totali di età media 35 anni se facciamo la proporzione viene una percentuale rischio rirottura dell'1.9% la quale è perfettamente in linea con gli studi già pubblicati su questo tema passiamo ora a vedere quest'altro studio che stavolta pone l'attenzione su un altro tracerimo nemico nel recupero post-rottura che è quello dell'allungamento del tendine Achille ovvero se quest'ultimo cicatrizza troppo lungo se infatti ciò avvenisse comporterebbe deficit funzionali importanti nell'espressione della forza del muscolo gastrocnemio e soleo rendendo difficile o addirittura impossibile un salto o semplicemente il correre osserviamo dunque questo studio nel quale vengono divisi i pazienti in tre gruppi il primo gruppo con un'immobilizzazione totale per sette settimane e senza mobilizzazione articolare un secondo gruppo con mobilità articolare consentita nelle prime tre settimane ma senza appoggio entrambi questi due primi gruppi avevano un carico totale consentito dalla settimana 8 il terzo ed ultimo gruppo aveva una mobilità consentita uguale al gruppo B ma aveva anche un carico parziale fin dal primo giorno post-operatorio per poi diventare totale dalla settimana 5 tutti i componenti di questi tre gruppi hanno poi seguito lo stesso protocollo riabilitativo in termini di esercizi in questo studio è poi stato fatto un follow-up ecografico alla settimana 8 e dopo 6 mesi la conclusione è che non ci sono differenze riguardo la struttura meccanica del tendine e nemmeno differenze di elongazione tendinea tra i tre gruppi vediamo infine quest'ultimo studio che stavolta riguarda il trattamento conservativo ovvero la scelta di non riparare chirurgicamente il tendine ma lasciarlo cicatrizzare da solo in maniera spontanea con un'immobilizzazione del piede nequino questo tipo di trattamento è purtroppo da optare solo in alcuni casi e ne ho parlato abbondantemente in un mio video precedente che potete cercare nel mio canale osserviamo dunque questo studio nel quale i pazienti vengono divisi in due gruppi nel primo seguono un protocollo con solo due settimane di immobilizzazione mentre nell'altro le settimane di immobilizzazione sono otto poi dalla nora settimana in poi seguono tutti lo stesso protocollo riabilitativo il follow up stavolta è di un anno e non vengono riscontrate differenze tra i due gruppi per quanto riguarda la scala soggettiva che avevamo visto già precedentemente la TRS l'HR e la L-RISES che è la di mettersi in punta di piedi rischio di rottura e l'elongazione appunto del tendine pertanto anche questo studio conferma l'ipotesi che una mobilizzazione e carico precoce è possibile anche in caso di trattamento conservativo senza avere maggiori rischi ma solo diciamo vantaggi e una maggior libertà psicofisica del paziente ricapitolando e concludendo questo video riportando la mia esperienza personale lavorativa e la mia opinione devo dire che secondo me in tanti casi c'è un eccesso di prudenza nel protocollo standard scelto dall'ortopedico il quale a volte preferisce allungare il tempo di recupero pensando di diminuire i rischi e migliorare la guarigione quando purtroppo purtroppo o meno male si è visto che con gli ultimi studi non è proprio così infatti il nostro corpo per riparare bene veloce una lesione nel nostro caso stiamo parlando del tendine achille però questo discorso vale per qualsiasi altro traumatismo lesione ortopedica ha bisogno di ricevere il giusto stress che sicuramente non deve essere troppo eccessivo sin da subito ma neanche pari a zero bisogna infatti immaginare che il nostro corpo umano è in continua modalità di risparmio energetico per farvi un esempio prendiamo il caso degli astronauti che fanno missioni lunghe nello spazio in assenza di gravità l'assenza appunto del peso del corpo e quindi dello stress gravitazionale sulle articolazioni e su muscoli posturali ha come conseguenza un'importante perdita muscolare e un'importante perdita della densità ossea anche nel caso magari di un giovane astronauta che passa sei mesi in operazione spaziale in assenza di gravità poi quando torna sulla terra ha lo stoporosi pari a quella di una donna anziana che per fortuna per lui poi recupererà piano piano grazie allo stress gravitazionale presente sulla terra e le sue articolazioni il suo osso o anche poi i suoi muscoli riprenderanno vigore grazie appunto a questo stress ho usato questo esempio giusto per farvi capire che appunto se non stimoliamo costantemente il nostro corpo il nostro corpo agisce di conseguenza e purtroppo per noi si perderà sempre molto più velocemente la massa muscolare la densità ossea rispetto al tempo nel recuperarla se poi ci rimettiamo a fare esercizi e ridare nuovo stress dopo un periodo di immobilizzazione troppo prolungata e con questo concludo vi ringrazio per l'attenzione e un augurio di buona guarigione a tutti i compagni di Sventura